Buonasera a tutti, nuovo video tutorial come riscaldare l'inverno come sappiamo tutti quanti in questo periodo ha fatto molto freddo quindi è caduta anche la neve, abbiamo freddo e vogliamo riscaldare questo nostro inverno Ingredienti gli ingredienti sono semplici, sono le bombole da 20 kg di gas tipo queste poi una stufa a gas dove si possono mettere queste bombole, si possono mettere qui in questa stufa a gas svolgimento andare da vostra madre mentre si sta riscaldando le mani perché così è ancora più bella e levati la stufa all'improvviso dopo aver messo la stufa nel baccone aspettare qualche ora controllando di tanto in tanto che la bombola non è scarica se dovesse scaricarsi cambiare la bombola e aspettare ancora qualche ora fin quando fuori c'è più caldo già questa cosa in cina sta funzionando quindi spero che anche voi vogliate provarla naturalmente io ti consiglio di condividere questo video perché più usiamo meglio è con questo è tutto, vi ringrazio e al prossimo tutorial io 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 io